Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la politica con la battaglia sulla gestione dei rifiuti in Abruzzo. Sono polemiche da parte del Movimento 5 Stelle che denuncia il rischio della costruzione di un impianto di incenerimento in regione. Una battaglia a cui è stato dedicato anche un Consiglio regionale straordinario. Ci dice di più nel servizio Francesca Romana Testi. Un grande inganno, lo chiama così il Movimento 5 Stelle il caso rifiuti in Abruzzo, ripercorrendo tutta la storia del Consiglio regionale straordinario, svoltosi il 29 febbraio scorso, concluso con la volontà di gestire la materia rifiuti Abruzzo con il recupero e il trattamento, dal quale si sarebbero poi ottenute materie seconde FOS. Oggi invece i grillini presentano un quadro capovolto. È stata presentata una bozza di piano regionale di gestione dei rifiuti che prevede sia il recupero di materia e sia l'incenerimento. Per cui a parole ci dicono che non saranno previsti inceneritori nella nostra regione, nei fatti scelgono di incenerire. Inceneritori sul territorio, quelli che il sottosegretario Mazzocca aveva escluso categoricamente nel corso di diverse interviste sul tema, ipotizzando anche il trasporto nell'impianto del vicino Molise e con un accordo tra regioni. L'idea nostra è quella di elaborare un protocollo d'intesa che quantomeno permetta di ospitare lì una quantità non infinita né in termini quantitativi né per troppo tempo di frazione organica nell'inceneritore, ripeto, già attivo ed esistente. I rischi sono di avere degli impianti che i cittadini non vogliono e degli impianti che non soltanto non vogliono ma ci riportano indietro di 30 anni. Abbiamo tutte le conoscenze tecnologiche per evitare di incenerire, per spingere per la raccolta differenziata che farebbe abbassare anche le tariffe ai cittadini. Dunque sia un vantaggio per la salute dei cittadini che per le tasche. Adesso la pagina della cronaca. Andiamo all'Aquila. Abusava della figlia da quando aveva 5 anni e l'aveva filmata anche in diversi video amatoriali. l'inchiesta shock della polizia del capologo di regione che ha arrestato un pedofilo. Sentiamo il servizio di Daniela Rosone. Quando l'orco si nasconde in casa. Abusava della figlia da quando aveva 5 anni e mentre aveva rapporti con lei addirittura la filmava. L'indagine ha preso avvio da una vicenda che riguardava una truffa per la vendita di un telefonino compiuta dall'uomo nei confronti di una minorenne quando per un lungo periodo è stato residente all'Aquila dove impartiva anche ripetizioni private a ragazzini. Non solo la vendita tarocca ma aveva anche tentato un approccio ravvicinato con la ragazzina stessa. Allora è scattata la denuncia e l'appostamento per l'uomo. Gli agenti lo hanno sorpreso in strada qualche giorno fa assieme alla figlia di 11 anni. Dentro un carrello per la spesa aveva messo un computer e DVD vari da gettare. Voleva disfarsi insomma delle prove. C'erano custodie di CD di Allochitti per nascondere invece il peggiore degli incubi. Un filmino terrificante quello che hanno trovato gli agenti. La figlia dell'uomo era ripresa in un video hard con il papà. Il tempo di affidare la piccola ai vicini e la polizia è entrata così nella casa del pedofilo. DVD oltre 500 pieni di immagini pornografiche. Quasi 200 che ritraevano minori. Visionando poi analizzando gli oltre 500 DVD con immagini pornografiche di cui circa 200 con immagini minori gli investigatori hanno scoperto che la protagonista principale di un filmato amatoriale era proprio la bambina. Tra le quattro mura domestiche era costretta a rapporti sessuali con il padre. La minore ora è stata affidata alla madre separata dall'uomo da oltre 5 anni mentre l'uomo è stato portato al regime di isolamento nel carcere di Regina Celi in attesa dell'interrogatorio di garanzia. E continuiamo con la pagina della cronaca sempre dall'Aquila. Il re del call center Roberto Boggio è stato arrestato a Milano dalla Guardia di Finanza in relazione ad un'inchiesta su una commessa per la Transcom che ha avuto sede all'Aquila fino al 2009. Sentiamo. Ha fatto subito il giro dell'Aquila la notizia dell'arresto dell'imprenditore Roberto Boggio titolare della società Transcom ha considerato il re del call center l'ho arrestato la Guardia di Finanza a Milano per fatture false in relazione a subappalti con società del faccendiere Raffaele Pizza. I finanziari del nucleo speciale di polizia valutaria hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare e domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma Giuseppina Guglielmi nell'ambito dell'inchiesta Labirinto che portò nel luglio scorso all'arresto di 20 persone ritenuto coinvolte in un giro di corruzione in ministeri ed enti pubblici. La vicenda giudiziaria che ha portato Boggio ai domiciliari riguarda l'aggiudicazione da parte della società Transcom in associazione temporanea di imprese di un mega palto per la gestione del call center di IMSS INAIL dal 2010 al 2016 i cui costi secondo l'accusa sarebbero lievitati da 120 milioni a 450 milioni di euro. All'Aquila Transcom era presente fino al 2009 cioè fino al terremoto che ha colpito il capoluogo d'Abruzzo poi da Transcom la commessa che comprende anche IMSS INAIL nel sito aquilano è passata al consorzio lavorabile che ad oggi impiega oltre 500 persone con il 25% composto da lavoratori disabili e proprio nell'ottica del salvataggio dei posti di lavoro della commessa che andrà di nuovo a gara nel 2017 e più in generale della tutela del lavoro su tutto il territorio locale è nata da poco l'associazione Lavoriamo per l'Aquila che conta già centinaia di aderenti e che chiede alla politica aquilana regionale e nazionale attenzione e impegno sul tema della corretta applicazione della clausola sociale introdotta dal nuovo codice degli appalti prima dell'imminente emanazione del nuovo bando di gara relativo al Totat Center IMSS INAIL Equitalia La corretta applicazione della norma, aveva scritto l'associazione vuol dire prevedere nel nuovo bando di gara anche in caso di successione di imprese la piena tutela dell'occupazione degli attuali lavoratori con il mantenimento degli attuali trattamenti contrattuali E continuiamo Una rapina è stata messa a segno questa mattina attorno alle 6.30 a Villa Raspa di Spoltore presso la sala giochi Lucky Star di Viale Europa dove due sconosciuti travisati ed armati di pistola hanno fatto irruzione nei locali e sotto minaccia del revolver si sono fatti consegnare dai dipendenti circa 6.000 euro I due rapinatori si sono poi dileguati a piedi facendo perdere così le loro tracce non ci sono stati fortunatamente feriti sull'episodio indagano i carabinieri della locale stazione della compagnia di Pescara Ed ora siamo al report di Istat per quanto riguarda gli incidenti nella nostra regione nell'anno 2015 sono stati 3.217 i sinistri costi sociali per 275 euro pro capite sentiamo il servizio di Elisa Leuzzo Rispetto al 2014 diminuiscono sia gli incidenti che i feriti ma il numero di vittime della strada aumenta del 9,1% nel 2015 si sono verificati in Abruzzo 3.217 incidenti stradali che hanno causato la morte di 84 persone e il ferimento di altre 4.827 La regione Abruzzo si posiziona tra quelle in cui il calo è stato inferiore alla media nazionale tra il 2001 e il 2015 le vittime della strada si sono ridotte del 50% contro il meno 51,7% della media nazionale Il quadro emerge da uno studio effettuato dall'Istat Fra il 2010 e il 2015 si registra un aumento del 6,3% dei sinistri a fronte di una diminuzione della media nazionale di meno 16,7% Sempre fra il 2010 e il 2015 l'indice di mortalità sul territorio regionale è passato da 1,9 a 2,6 deceduti ogni 100 incidenti quello medio nazionale da 1,9 a 2 In Abruzzo nel 2015 bambini, giovani e anziani deceduti in incidenti stradali sono meno rispetto alla media nazionale 4,7% contro il 45,6% con una differenza meno ampia per gli anziani il tasso di mortalità infatti è più alto in Abruzzo per gli ultra 64 anni Negli ultimi 5 anni aumentano anche i pedoni deceduti in Abruzzo da 12,7% a 15,5% L'incidentalità rimane alta lungo la costa e nei comuni capoluogo di provincia la pericolosità rimane alta lungo l'autostrada A25 la strada statale 650 a Fondovalle del Trigno la strada statale 696 del Parco Sirente-Velino la strada statale 690 a Vezzano-Sora L'indice di mortalità cresce nei comuni di Chieti, L'Aquila e Teramo mentre diminuisce nel comune di Pescara Nel 2015 il maggior numero di incidenti si è verificato sulle strade urbane provocando 34 morti mentre rispetto all'anno precedente i sinistri diminuiscono del 5,6% sia in ambito urbano che sulle strade extraurbane e del 13,3% sulle autostrade Gli incidenti più gravi però continuano ad avvenire sulle strade extraurbane 5 decessi ogni 100 incidenti e sulle autostrade 4,5 Nel periodo primaverile ed estivo la concentrazione degli incidenti è più elevata in coincidenza con la maggiore mobilità legata a periodi di vacanza Tra maggio e settembre si contano 1.577 incidenti il 49% degli incidenti dell'anno in cui hanno subito lesioni 2.356 persone 48,8% e 32 sono decedute il 38,1% Nell'ambito dei comportamenti errati di guida il mancato rispetto delle regole di precedenza o del semaforo la velocità troppo elevata e la guida distratta sono le prime tre cause di incidente Andiamo avanti adesso con il nostro giornale Donne delle istituzioni come Valeria Fedeli Vice Presidente del Senato e il Sottosegretario alla Giustizia Federica Chiavaroli si sono ritrovate insieme questa mattina all'Università di Teramo per dibattere sugli ostacoli che ancora impediscono l'emancipazione femminile il servizio di Tania Bonici Castelli Il nuovo comitato unico di garanzia per le pari opportunità dell'Università di Teramo debutta con il convegno dal titolo Nella differenza ma oltre le differenze un incontro che ha visto come protagoniste importanti donne delle istituzioni Quali sono gli ostacoli che impediscono l'emancipazione delle donne? Soprattutto le giovani generazioni sono ragazze che si laureano prima e meglio dei ragazzi sono molto determinate vorrebbero poter conciliare sia la vita di lavoro e professionale con le scelte di vita personale quindi la maternità in realtà noi abbiamo ancora molti ostacoli che impediscono alle ragazze e alle donne di essere autonome libere e autodeterminate l'ostacolo principale è che noi non investiamo esattamente su quei fattori che riguardano la maternità noi dobbiamo avere più consapevolezza che anche la genitorialità va condivisa per esempio il governo e il Parlamento italiano di questa legislatura sta facendo molte cose per dire che la maternità ha un valore sociale dire che la paternità ha un valore sociale e condividere la genitorialità è decisivo anche per le imprese che non devono spingere le donne soprattutto quando scelgono di fare un figlio ecco di dire a questo punto non siete più produttivi in qualche modo le spingono a restare a casa abbiamo confermato anche nella legge di bilancio di quest'anno la misura del voucher per le babysitter sia per le lavoratrici dipendenti sia per le lavoratrici autonome abbiamo confermato il congedo parentale obbligatorio anche per i papà di due giorni a significare che la genitorialità è una responsabilità condivisa abbiamo inserito nuove misure importanti come il bonus per gli asili nido o misure anche di sostegno alla natalità come il bonus per i nuovi nati il fondo di garanzia per le famiglie che hanno un nuovo bambino e quindi il governo è incamminato nella strada giusta consapevole che misure di conciliazione sono fondamentali il comitato unico di garanzia per le pari opportunità è un nuovo organismo che l'università di Teramo ha recentemente recepito e che si batte per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni in questo l'Ateneo Teramano è in prima linea anche l'università di Teramo è andata oltre le differenze stiamo cercando di rinnovare questa università oltre le differenze significa valorizzare le differenze significa riuscire a creare le condizioni perché ciascuno possa esprimere il meglio delle proprie potenzialità e possa perseguire al meglio le proprie aspirazioni contro il femminicidio e la violenza contro il silenzio e la paura a Pescara scuole, istituzioni e associazioni si uniscono per diffondere un messaggio rivolto alle donne e alle future generazioni Femminicidio, violenza omertà tantissime le risorse spese anche a livello nazionale per combattere un fenomeno tenuto sommerso per troppi anni non solo istituzioni in prima linea ma grandissimo lavoro è quello svolto dalle associazioni e anche dalla scuola Pescara mette in campo tre istituti scolastici un'orchestra di fama internazionale artisti del cinema è uno spettacolo pensato e studiato per far comprendere l'importante messaggio da diffondere fuori dalle case e dalle stanze che racchiudono quella violenza il messaggio più importante è che la scuola è in prima linea in questa grande battaglia di civiltà contro ogni forma di violenza ma anche di prevaricazione di qualsiasi genere anche di tipo psicologico nei confronti delle donne i ragazzi delle nostre scuole stanno svolgendo da molto tempo dei percorsi di formazione che sono volti ad affermare valori forti come il valore del rispetto reciproco della comprensione e della valorizzazione delle differenze anche di genere ritengo che l'arte proprio sia il mezzo per eccellenza per trasmettere questa sensibilità e per questo il rossamara che noi replichiamo per la giornata contro la violenza sulle donne il giorno prima il 24 novembre alle ore 21 al teatro massimo parla di donne emigranti le donne di ieri italiane della Sicilia i primi del novecento e quelle di oggi dall'Eritrea che comunque nel loro lungo percorso di vicissitudini subiscono anche violenza in questo caso questo evento di rossamara va a sostenere la costruzione della casa rifugio per la protezione delle donne che hanno il coraggio di denunciare questa violenza familiare e da parte del centro antiviolenza anche a Pescara è stato eletto il consigliere straordinario deputato alle relazioni con gli stranieri Caterina Lerouche oggi si è presentata alla cittadinanza è Caterina Lerouche la nuova consigliera aggiunta del comune di Pescara ucraina di origine da 16 anni in Italia e già mediatrice culturale presso l'ospedale Spirito Santo è stata lei ad ottenere il maggior numero di voti nelle elezioni svolte il 29 ottobre scorso 125 preferenze sui 470 votanti tutti stranieri con regolare permesso di soggiorno in una comunità che conta in città 3531 persone da oggi il suo compito sarà quello di diventare intermediario istituzionale dobbiamo fare sì che tutti gli stranieri sappiano quali che sono i doveri e i diritti di ognuno di loro perché informazione è molto importante io penso anche lavorando con tutti i consiglieri collaborando con tutti il consiglio comunale di fare sì che i stranieri possano avere più informazione e più possibilità agevolazione a tutto ciò che hanno bisogno una rappresentanza voluta dal comune di Pescara che riconosce come esigenza quella di operare sull'integrazione e la condivisione di diritti doveri su tutto il territorio ora abbiamo sia un consigliere aggiunto che siederà nel seggio comunale e anche di una consulta di cittadini sempre stranieri che potranno relazionarsi col consigliere aggiunto che sarà il trade union tra loro e l'amministrazione di esigenze non rappresentate ovviamente ce ne sono tante rappresentano tutte le problematiche che si pongono per l'immigrazione per l'integrazione quindi ci sono tanti aspetti da valutare anche dei problemi da risolvere e speriamo che in questo modo riusciremo ad essere più efficienti torniamo a Teramo adesso allarme in via Oberdan in pieno centro storico questa mattina la strada è stata chiusa al transito per circa un'ora il tempo di verificare quanto segnalato dal proprietario di un appartamento posto al secondo piano dell'edificio che si trova di fronte a quello dell'Inpse che confina con la sede della Teramo Calcio il proprietario dell'abitazione già lesionata dal sisma del 2009 avrebbe udito rumori alle pareti e per questo ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco le guardie municipali hanno transennato la zona da via Vezzola fino all'incrocio con piazza Martiri Pennesi per permettere l'intervento dei vigili del fuoco secondo quanto si è preso i tecnici però hanno dichiarato non pericolosa l'area e il divieto è stato rimosso dopo circa un'ora restiamo sempre a Teramo l'associazione piccola e media industria della provincia denuncia il pericolo di svendita in corso della Camera di Commercio in favore di quella aquilana il presidente dell'Api Alfonso Marcozzi accusa l'attuale giunta camerale di procedere alla fusione con l'Aquila e alla chiusura della sede Teramana quest'ultima decisione penalizzerebbe il tessuto impenditoriale Teramano sentiamo c'è una svendita in corso quella della Camera di Commercio di Teramo in favore dell'Aquila è il grido d'allarme che l'Api l'associazione piccole e medie industrie della provincia di Teramo lancia per denunciare la possibile perdita dell'ente camerale Teramano fusione sì con il capoluogo aquilano ma la sede unica non dovrà essere l'Aquila dovrà restare in città purtroppo soggetti che stanno trattando questo passaggio di una istituzione importante sul territorio fatto di risorse umane capaci la stanno svendendo all'Aquila nella maniera più biega che in questo momento possa io esprimere perché sono veramente rammaricato di questo aspetto ma la cosa che dà fastidio è da pensare il fatto che questo passaggio venga proposto a soggetti non legittimati perché sappiamo benissimo che all'interno dell'aggiunta c'è qualcuno che per norma non ci può stare continuare a smembrare a svilire questo territorio un territorio ricco di realtà importanti di capacità del turismo fondamentali di maestranze e manovalanze importanti mi riferisco soprattutto al mondo delle costruzioni svenderci in un altro territorio dove ci hanno altre opportunità mi sembra che sia veramente ridicolo lei ha una soluzione deve restare a Teramo hanno altre opportunità all'Aquila c'è la regione e quindi hanno altri sbocchi altre possibilità perché dobbiamo andare all'Aquila sia da Teramo c'è all'Aquila oltretutto hanno speso soldi per costruirne un'altra dopo che avevano investito i soldi per ristrutturare quella al centro storico e ci sta tutto questo discorso ma costruire un'altra a Bazzana approva e per quale motivo quando a Teramo la sede c'è ed è funzionale magari deve essere sistemata a fronte dei nuovi eventi sismici ma comunque c'è ed operativa quindi chiediamo chiediamo poniamo riflessioni soprattutto al sistema al mondo imprenditoriale che forse non è al corrente di quello che succede all'interno della Camera di Commercio E adesso la pagina dello sport partiamo dal Pescara questa mattina in occasione della visita agli stabilimenti di uno degli sponsor della squadra La Saquella il presidente Sebastiani ha parlato del momento difficile del Delfino intanto Campagnaro dovrà star fuori dal campo almeno per due settimane sentiamo Presidente Sebastiani dopo la sconfitta con la Juventus si pensa già alla gara di Roma calendario che non regala partite sulla carta abbordabili al Pescara resta però la fiducia della società in questa squadra in questo tecnico assolutamente sì ci mancherebbe non solo resta la fiducia resta la consapevolezza che qui non ci sono partite facili non è che la Roma è difficile e poi il Cagliari è una passeggiata sono tutte partite difficili perché la Serie A è questa e noi se ci vogliamo stare vogliamo provare a rimanerci dobbiamo metterci qualcosina in più qualcosina in più in termini di impegno in termini di cattiveria agonistica perché probabilmente è quello che ci è mancato fino adesso abbiamo giocato delle bellissime partite abbiamo raccolto molto meno di quello che meritavamo sul campo a livello di complimenti penso che siamo la prima squadra nel campionato a livello di punti non lo siamo dopo la partita con la Roma quattro partite però da non sbagliare con due scontri diretti in trasferta a Crotone e Palermo sì sì diciamo che sulla carta dovrebbe cominciare il campionato del Pescara abbiamo sbagliato qualcosa negli incontri precedenti e abbiamo raccolto qualche punto magari dove altri non l'hanno fatto non credo che qualcuno della società o anche tra il mister e i giocatori si fosse illuso di poter fare un campionato diverso noi sapevamo qual era la nostra strada quest'anno che era una strada di sofferenza di grande sofferenza ma di grande sacrificio che devono fare i ragazzi devono fare deve fare la società deve fare il mister devono fare tutti quelli che hanno a cuore le sorti del Pescara ultima battuta bilancio tutto ok ieri c'è stata l'approvazione? ma sì a parte c'è stata l'approvazione ma io credo che se una società lavora per il bene della società in primis e soprattutto una società che negli ultimi tre anni ha tolto dall'imbarazzo tutti i soci vecchi e nuovi perché tutti quanti noi avevamo delle firme presso le banche oggi non c'è più una firma presso le banche penso che qualcuno mi debba dire grazie non debba venire nemmeno a chiedere che cosa abbiamo fatto dunque questa è l'intervista di Paolo Lorenzetti adesso cambiamo categoria scendiamo in Lega Pro designazioni arbitrali sarà Chindemi di Viterbo a dirigere la gara di campionato di sabato prossimo fra Reggiana e Teramo invece la gara di Coppa Italia di domani alle 14.30 tra Teramo e Siena sarà arbitrata da Amabile di Vicenza intanto ieri è stato presentato il neoresponsabile dell'area tecnica della Teramo Calcio Alec Bolla per lui contratto di sei mesi Jacopo Forcella direttore Bolla innanzitutto benvenuto a Teramo sai che ti aspetta un grande lavoro e manca davvero poco tempo all'inizio del mercato questa nuova avventura come la intravedi? innanzitutto grazie per per il benvenuto e speriamo speriamo in bene incrocio le dita so che so che sarà un'annata difficile sarà anche un mese difficile questo dove bisognerà capire effettivamente se intervenire e dove intervenire credo però credo una cosa credo che chi ha costruito questa squadra l'abbia fatto in maniera importante in maniera ottima perché comunque fanno parte tanti giocatori che hanno uno spessore umano molto alto e io credo che in questo momento dove le cose vanno un po' meno bene perché 13 punti capisco che per la squadra e per il Teramo sono pochi però credo anche che ci sia una buonissima organizzazione una buonissima prospettiva già da questa rosa ecco il marchio di Alec Bolla sarà anche un po' di discontinuità a gennaio rispetto al recente passato oppure magari proseguirai sulla linea della continuità cioè tenendo non facendo scelte radicali nel mercato di gennaio credo che gli equilibri in uno spogliatoio in una rosa siano fondamentali ecco quindi devo capire e vorrei capire determinate situazioni determinati meccanismi dopodiché capiremo se alcuni giocatori rimangono con la testa giusta vogliono entrare con la testa giusta vogliono andare via devo capire ancora un pochino queste cose è chiaro che qualche idea ce l'ho e qualche idea la porterò avanti e probabilmente la metterò anche in atto dei giocatori fortunatamente ne conosco parecchi però ecco io vorrei ripartire cioè partire nella mia nuova avventura considerando e in maniera anche importante i giocatori che ci sono in essere lasciamo il calcio cambiamo disciplina per occuparci di basket al culmine di una giornata decisamente storta la Globo Info Service Campli perde l'imbattibilità in campionato e subisce un passivo pesante a Porto Sant'Elpidio partita finita 85 a 56 Andrea Costantini la Globo Info Service Campli perde la sua imbattibilità e lo fa nella maniera più fragorosa e inaspettata possibile il quintetto di coach Millina esce dalla trasferta sul parquet della Malloni Porto Sant'Elpidio con un passivo molto pesante di meno 29 85 a 56 decisamente una domenica no per i farnesi mai in partita ed estremamente imprecisi in attacco come dimostra la percentuale dal campo da 2 39% per via di un 14 su 36 e soprattutto il dato della lunga distanza 3 su 23 13% numeri generati da una serata storta al tiro ma anche dalla buona interpretazione difensiva del quintetto Elpidiense sceso in campo con la giusta rabbia poiché reduce da due sconfitte consecutive di tutt'altro tenore le percentuali della Malloni 54% da 2 e 43% da 3 che si sono tradotte in un primo quarto da 27 a 16 e in un secondo da 22 a 15 all'intervallo lungo si va sul 49 a 31 un meno 18 che è una montagna troppo alta da scalare per la Globo Info Service che nel terzo quarto non riesce a reagire e anzi nell'ultima frazione Porto Sant'Elpidio prende il largo e chiude sull'85 a 56 per i Farnesi doppia cifra per Petrucci 15 con 8 su 9 liberi Gatti 15 ma con 4 su 12 dal campo e 12 di Serafini con 5 su 12 tra i marchigiani in 5 vanno in doppia cifra spiccano i 18 di Cacace e i 17 di Cernivani sotto le plance Torresi Arpiona 12 rimbalzi si ricompatta così l'alta classifica del girone di perché con Campli perde l'imbattibilità anche Biceglie che crolla a Matera in vetta Pugliesi agganciati da Monte Granaro mentre la Globo Info Service viene appaiata da San Severo in attesa del recupero con Senigallia che può valere potenzialmente il primato in coabitazione per la squadra di Millina è lecito attendersi una gara di riscatto quando domenica prossima al Pala Borgognoni ci sarà il derby con la Weir Ortona Cambiamo ancora una volta disciplina per occuparci di Triatron perché parte la nuova stagione della società pescarese The Hurricane Team che vede fra le sue fila atleti di spicco vediamo Vengono presentati i nuovi programmi della vostra polisportiva parte una stagione davvero densa di impegni Polisportiva The Hurricane si tratta di sport quindi sport in generale in assoluto nuoto abbiamo il settore nuoto e il settore triatron stiamo cercando di ampliarlo anche nell'atletica e nei prossimi anni anche nel ciclismo quindi cerchiamo di sviluppare di far crescere i ragazzi giovani sia nel nuoto che nel triatron e portarli ad avere strutture adeguate e allenatori adeguati per dar loro la possibilità di crescere e di avere anche un futuro all'interno del loro sport tu sei un po' la punta di diamante in campo maschile di questa polisportiva nelle ultime gare ho puntato soprattutto sulla media distanza e sulla media distanza sono riuscito a raggiungere il campionato italiano della mia categoria e anche sul duatron che è un'altra specialità e sono riuscito a raggiungere il campionato italiano della mia categoria è cominciato il nuovo quadriennio quindi insieme alla polisportiva vorrei provare la qualifica per Tokyo nel 2020 e poi ovviamente per parlare di obiettivi un po' più vicini il campionato europeo sia assoluto che Under 23 come anche il campionato del mondo assoluto Under 23 e magari anche di mantenere il titolo italiano assoluto che ho conquistato quest'anno è emozionata e orgogliosa non solo perché sarà appunto la punta di divante come la chiamate voi della squadra ma anche perché forse per la sua esperienza potrà trasmettere qualcosa ai ragazzi e incitarli alla vittoria prima di salutarvi vi ricordo che se nei prossimi giorni avrete difficoltà di ricezione del nostro segnale sul digitale terrestre è opportuno rieffettuare la sintonizzazione dei canali o del vostro decoder oppure della vostra tv per continuare a vedere la nostra emittente sul canale 14 per quanto riguarda il nostro giornale invece è tutto io vi ringrazio per averci seguito vi do appuntamento alle prossime edizioni delle 19 e delle 23 vi auguro una buona giornata grazie a tutti